Al 29esimo si sblocca il risultato, Giannini, Desideri, ancora Giannini e ancora Desideri, da questi a Bergren ed è gol. Ma rivediamo la rete dall'alto. Dunque Roma in vantaggio per 1-0 al 29esimo, qui una Fione Granata, Tossena, Lerda, Junior, bellissimo il suo tiro, ma è alto. Qui la Roma Giannini, Agostini che guardate manda sulla traversa. Al 39esimo il raddoppio, da Conti a Oddi, da questi ad Agostini ed è la rete del 2-0.